Buongiorno, buon sabato e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense. Diverse le notizie, parleremo anche di spalle della sconfitta di ieri sera dei bianco-azzurri in casa contro l'Ascoli, ma anche del piano del comune per ridurre il traffico in centro con il nuovo regolamento della ZTL. Ma dobbiamo partire con la visita di domani a Ferrara del ministro del turismo Massimo Garavaglia, domenica appunto sarà in città, in serata indicativamente intorno alle 18.30 e sarà accolto dal sindaco Alan Fabri. Grazie al ministro Garavaglia per la grande disponibilità manifestata, dice il primo cittadino che affronterà sicuramente il tema del rilancio del turismo nelle città d'arte come Ferrara e sicuramente affronterà anche però i temi legati alle riaperture, anche quelle annunciate da Draghi in conferenza ieri. Draghi infatti ha detto ieri si può guardare al futuro con prudente ottimismo e fiducia, lo ha detto appunto durante una conferenza stampa dove ha anche annunciato diverse date per le riaperture di cui tratteremo nelle prossime edizioni del telegiornale. Ma tutto questo è stato deciso perché in questo momento, in questi giorni, in queste ore la morsa della pandemia sta un po' allentando la presa anche nel ferrarese, ma ovviamente non bisogna mai abbassare la guardia in questa fase pandemica, ma sentiamo quali sono i dati più recenti riguardanti il ferrarese in attesa del nuovo bollettino che uscirà oggi. Sentiamo però i dati dell'emergenza coronavirus nel ferrarese riferiti al bollettino di ieri. Più tamponi e meno contagi scovati tra la popolazione ferrarese, questo emerge dal bollettino di venerdì dove sono stati comunicati purtroppo altri due decessi per complicazioni attribuibili al virus, una donna di 57 anni e un uomo di 78 anni, 40 le vittime nel resto della regione. Intanto, rispetto al bollettino precedente, nel ferrarese, come detto, sono stati trovati meno nuovi casi, 87, su più tamponi, 499, in calo però i nuovi guariti, 108. Cala, in questo caso è un bene, la pressione sugli ospedali covid ferreresi, cresciute e anche le vaccinazioni giornaliere in territorio estense rispetto al giorno precedente, più di 2.000 che fanno salire le vaccinazioni totali, a circa 110.000, quasi 34.000 i ferreresi immunizzati. L'aggiornamento dell'epidemia in Emilia Romagna registra 1.275 nuovi positivi e più di 2.360 nuovi guariti, in calo i ricoveri negli ospedali. E Comacchio avrà il proprio punto, il proprio centro vaccinale, il proprio hub ad annunciarlo è stato su Facebook, il sindaco Pierluigi Negri ed è emerso anche durante l'ultima conferenza socio-sanitaria. Da tempo se ne discuteva, non senza polemiche politiche, anche appunto in sede di conferenza, ma alla fine il risultato è arrivato. Il centro sarà situato al palazzetto dello sport del villaggio Raibosola, dove verranno trasferiti anche i punti vaccinali, attualmente nella Casa della Salute San Camillo. E adesso continuiamo a parlare di vaccini, perché è stata denominata VIT ed è la complicazione grave e rarissima, che sia EMA che AIFA hanno ammesso poter avere un legame causale con il vaccino AstraZeneca, raccomandando a questi enti che il vaccino si è riservato a soggetti di età superiore ai 60 anni. La situazione rimane ancora confusa, ma la buona notizia è che esiste una terapia per curare questa VIT quando viene oasticata precocemente. Sentiamo questo servizio che parla appunto di questo studio. Nel bel mezzo della campagna vaccinale in Italia e in tutta Europa, con vaccini di nuova generazione a RNA come Pfizer e Moderna, o vetture adenovirale come AstraZeneca, le notizie di alcuni casi rari ma molto gravi, soprattutto di donne di età compresa tra i 20 e i 55 anni, che dopo la vaccinazione con AstraZeneca hanno sviluppato patologie gravi, e cioè un quadro clinico complesso, caratterizzato da diminuzione delle piastrine e trombosi venose in vari siti compreso il cervello, hanno creato una diffidenza diffusa nei confronti di AstraZeneca, nonostante le rassicurazioni date nelle settimane scorse dall'agenzia europea EMA e italiana AIFA. Sul tema, due studi appena pubblicati sulla prestigiosa rivista New England Journal of Medicine aiutano a fare chiarezza, anche grazie all'intervento sulla sera del gruppo Scienziate per la Società, le quali scrivono «Gli studi hanno caratterizzato le complicazioni in 11 soggetti tedeschi austrieci e 5 norvegesi, prevalentemente donne. I dati dimostrano che i sintomi aggiungono difficoltà respiratoria, dolore al petto, forte mal di testa, dolore addominale persistente, visto fuscata, vertigini, comparsa spontanea di lividi, compaiono da 5-20 giorni dopo la vaccinazione e correlano con la produzione di anticorpi contro un normale componente del nostro organismo. Questa sindrome, che sulla base di alcune importanti caratteristiche della probabile associazione col vaccino è stata denominata trombocitopenia trombotica immune indotta da vaccino, acronimo BIT, è una sindrome nuova, è stata riportata in diversi paesi europei e sia l'EMA che l'AIFA ne hanno suggerito il possibile legame causale con il vaccino AstraZeneca, raccomandando che questo vaccino sia riservato a soggetti di età superiore ai 60 anni sulla base di un calcolo accurato fra rischi e benefici. Una situazione ancora confusa da approfondire. Ma la buona notizia è che esiste una terapia per curare questa sindrome quando è diagnosticata precocemente. E questo è avvenuto grazie al gruppo di esperti in coagulazione diretto dalla professoressa Rossella Marcucci dell'Università di Firenze. Ora è necessario che gli ospedali ricevano indicazioni precise su come riconoscere e trattare questa sindrome e che i medici vaccinatori siano allertati ed informati per incoraggiare i soggetti vaccinati a chiedere assistenza medica se dovessero insorgere i sintomi caratteristici. Cambiamo totalmente argomento, parliamo di sport e di spalla perché c'è stata la sconfitta ieri sera nel match interno contro l'Ascoli per 2-1, per noi allo Stadio Mazza c'era Alessandro Sovrani che ci racconta così la partita. Vistoso passo indietro per l'Aspalla e dopo la vittoria di Lecce arriva la sconfitta in eterna con l'Ascoli per i ferraresi nel girone di ritorno delle otto gare giocate al Paolo Mazza solo una si è conclusa con la conquista dell'intera posta in Paglio e questa la dice lunga sui problemi della squadra oggi allenata da Massimo Rastelli che ha conosciuto la prima sconfitta della sua gestione una spalla che fatica a costruire gioco soprattutto quando è chiamata a prendere in mano le redini della gara sia per i problemi centrocampisti dal passo troppo lento e dalle giocate prevedibili anche se oggi nei 45 minuti in cui è rimasto in campo Viani ha dimostrato di essere il giocatore migliore del reparto e con un attacco che manca di peso nonostante Flocari davvero capitano si sia dannato l'anima dal primo all'ultimo minuto ma all'assenza di giocatori con determinate caratteristiche al suo fianco si fa più che mai sentire anche Di Francesco oggi schierato al suo fianco combinato poco se non una conclusione deviata contro la traversa da Puccino quando la spalla si era gettata in avanti alla ricerca del gol del pareggio una spalla parsa subito in difficoltà tant'è che la prima occasione è stata creata proprio dagli ospiti con cross rasaterra di Puccino deviazione a distanza ravvicinata di Baice che non ha trovato lo specchio della porta bianco-azzura grazie all'uscita di Beriscia e all'azione di disturbo di Ocoli schierato al centro della difesa a quattro al fianco di Tomovic con Dicma che ha sofferto tantissimo sul settore destra con le incorsioni di Dorazio e Ranieri sulla corsia opposta anche per quanto riguarda il reparto arretrato passo indietro rispetto al match di Lecce una difesa che comunque continua a subire troppi gol ancora al ventunesimo minuto pericolosi gli ospiti con una diagonale di Sabiri e la respinta di Beriscia ma nel migliore momento dell'Ascoli è arrivato il gol della spalla Missiroli ha rubato palla a centrocampo a Puccino ha allargato per poi un'attraversione verso Flocari assist con un tocco all'indietro verso Valotti che con una delle sue conclusioni raso a terra file di palo alla destra di Leali ha sbloccato il risultato insomma una gara che sembrava mettersi in discesa anche perché la Spal poteva guire degli spazi che fatalmente l'Ascoli le lasciava a disposizione e andava anche vicino al gol del raddoppio con una conclusione di segre ribattuta da Leali alla 34esima ma alla 43esima arrivava il gol del pareggio meritato è giusto riconoscerlo per la formazione marchigiana conclusione di Dorazio non un gran tiro ma ne è venuto fuori un assist per Sabiri che in fine era di rigore ha controllato il pallone e lo ha scaraventato imparabilmente alle spalle di Beriscia un Sabiri che deve avere un conto da regolare con la spalla aveva già realizzato due gol nel corso del match di andata e al 44esimo ha calciato una punizione praticamente un angolo ravvicinata con il suo destra un piede che in queste situazioni è realmente molto molto efficace e preciso palla che è andata a sbattere sulla parte alta della traversa della porta difesa da Beriscia a spalla anche parrovato a riportarsi in vantaggio grazie a Nucasio Terra di Flocker che si è liberato bene in area leggermente defilato sulla sinistra in pieno recupero ma le ali non si è fatto sorprendere dopo l'intervallo Spal che presenta questa è un'assenza che si è fatta sentire tantissimo in sostituzione di Valotti colpito duro alla tibia sinistra comunque nel dopo partita Rastelli ha detto che spera di averlo a disposizione per il match di martedì a Brescia e dicevamo Strefez ha preso il posto di Valotti e poi un po' a sorpresa Murgia è persa ancora una volta un pesce fuor d'acqua è subentrato a Viviani una spal che è persa in grande difficoltà nel costruire la manovra non avendo più a disposizione la capacità di garantire geometrie e lucidità nella manovra come aveva fatto nel primo tempo con l'apporto di Viviani un Ascoli superiore più veloce più agile in particolar modo nel reparto centrale ma soprattutto sugli esterni con Puccino a destra e Dorazio sulla sinistra proprio quest'ultimo si involava non lo ha mai preso purtroppo lo dobbiamo sottolineare su questa fascia Dickman traversone sul primo palo Baice di testa è andato ad anticipare a sorprendere la coppia Tomovic o Coli nulla da fare per Beriscia la spalla ha cercato di reagire con determinazione orgoglio e tanta volontà questo è doveroso sottolinearlo con il passare dei minuti Rastelli ha cercato anche di attingere dalla panchina inserendo sala ma in particolar modo la coppia di attaccanti Moro e Assenso una spalla trazione anteriore ma sono arrivate pochissime opportunità c'è stato un tentativo di Di Francesco con la palla che si è impennata dopo la deviazione di Puccini da trasbattere contro la traversa una conclusione da fuori di estrefezza che ad onore del Veo non è dispiaciuto ma anche Lascoli ha avuto un paio di opportunità con in particolar modo Dionisi per chiudere definitivamente i conti una sconfitta che cancella definitivamente le speranze se comunque ce ne potessero ancora essere di conquistare la promozione diretta ma ora la spalla dovrà guardarsi anche alle spalle per cercare di mantenere almeno la quinta o sesta posizione di classifica difficile ipotizzare alla luce anche della prestazione odierna che questa squadra possa essere in grado anche di puntare al terzo o al quarto posto di questo se ne parlerà lunedì durante lunedì sport ovviamente sempre su tele stense ma rimaniamo in città Ferrara perché il 18 aprile è una domenica ecologica in calendario infatti per domani la prossima domenica ecologica programmata dal comune quindi dalle 8.30 alle 18.30 nell'area del centro abitato della città sarà vietata la circolazione dei veicoli a benzina fino a euro 2 dei diesel fino a euro 4 quindi le limitazioni sono quelle più stringenti riguardo alla lotta all'inquinamento potranno circolare quindi benzina euro 3 o superiori i veicoli diesel euro 5 o superiori oltre ovviamente ai veicoli metano a benzina scusate GPL benzina 2 o superiore ovviamente anche i veicoli elettrici o ibridi e adesso a proposito di circolazione parliamo del nuovo regolamento per l'accesso in zona ZTL di Ferrara dal prossimo mese parte appunto questo nuovo regolamento che cambia e non poco il traffico e la circolazione in area a zona traffico limitato meno auto in corso martiri della libertà ma anche una circolazione più controllata in corso Ercole I d'Este oltre a un sistema più agile per ottenere e rinnovare i permessi ZTL per disabili a Ferrara questi alcuni dei punti principali del nuovo regolamento per l'accesso e la circolazione dei veicoli in ZTL diverse le criticità segnalate in questi mesi in particolare in pieno centro storico dove circolavano troppe auto con l'accensione attesa da un anno e mezzo delle telecamere ai varchi di Torre della Vittoria e dei 4S il sistema Musa dovrebbe disincentivare il traffico di attraversamento con il nuovo regolamento che sarà attivo dal 3 maggio se il consiglio comunale darà al via libera le multe in corso martiri della libertà partirebbero da giugno dopo un mese di sperimentazione dopo 10 anni entriamo nella nuova fase un nuovo regolamento che avevamo promesso un nuovo regolamento che va nella direzione di ridurre drasticamente il traffico in centro in Ercole d'Este e in tutto il centro storico un nuovo regolamento che avevo promesso e che andremo ad applicare con il consiglio comunale a breve proprio per pochi giorni e che va proprio in questa direzione in quella dell'ascolto dei cittadini ferreresi che giustamente lamentavano questa criticità ma che ovviamente veniva da un regolamento non proprio corretto per ridurre il traffico in centro storico un centro storico con poche auto o chiuso va nelle direzioni delle grandi città per l'incentivo al turismo per l'acquisto dei negozi per la rivalutazione di tutto il commercio e del turismo faccio mio l'appello delle guide turistiche che chiedevano sensibilità importante per la chiusura del centro storico e così arriveremo in quella direzione ma più in generale il nuovo regolamento porta con sé un nuovo software che permetterà di acquisire online permessi ZTL e disabili senza recarsi negli uffici di Viale 4 Novembre come detto in conferenza le tariffe saranno leggermente aumentate rispetto a ora e si vuole rendere più costose le fasce orarie dove si registra maggiore traffico e dopo mesi l'armamento della polizia locale di Ferrara torna a essere al centro del dibattito cittadino ma questa volta non sono le opposizioni a intervenire ma CGL che da tempo chiederebbe all'amministrazione e al comando del corpo alcune delucidazioni sulla formazione degli agenti e il sindacato poi riscontrerebbe da quanto ci hanno detto anche alcune criticità le quali non hanno ancora avuto risposte dicono ma quali sono queste criticità le sentiamo direttamente da CGL la questione non è tanto armamento sì o armamento no perché quello non è un tema di natura sindacale ma è un tema di chiaramente politico e il consiglio comunale ha approvato l'armamento del corpo di polizia locale noi stiamo chiedendo da più o meno due anni di avere regole chiare e certe rispetto a questo percorso apprendiamo dagli organi di stampa che siamo vicini a questo momento all'armamento appunto e noi abbiamo continuato chiedere l'ultima richiesta è del 18 di febbraio del 2021 quando chiedevamo spiegazioni rispetto al percorso formativo preventivo all'armamento stesso perché riteniamo che dotare 150 persone di una pistola sia importante che questo percorso appunto venga fatto preventivamente verificando le condizioni di salute del personale che verrà armato e anche il corretto utilizzo dello strumento stesso a queste richieste noi non abbiamo ancora avuto una spiegazione formale perché l'armamento per come ad oggi è stato a noi presentato prevede o ha previsto ad oggi una formazione tramite un powerpoint e una autodichiarazione di lavoratrici e lavoratori nella quale essi stessi dichiaravano di non utilizzare psicofarmaci e di non abusare di alcol ci sembrano un percorso che non sia completo e non sia definito in più c'è un tema che l'amministrazione non ha ancora ritenuto di voler affrontare che è quello dell'obiezione di coscienza sia per quello che riguarda l'obiezione di coscienza degli agenti di sesso maschile ma soprattutto un tema che non hanno affrontato dal nostro punto di vista è quello dell'obiezione di coscienza del genere femminile e ricordiamo che quando il militare era obbligatorio era obbligatorio solo per gli uomini perché erano gli unici che potevano formalmente obiettare le donne non hanno mai potuto fare questo percorso e oggi il corpo di polizia locale del comune di Ferrara che ha gran parte di componenti di genere femminile non ha avuto modo di esprimere compiutamente il proprio orientamento ed è per questo che abbiamo inviato tramite uno studio legale una diffida al comune nel continuare questo percorso e speriamo che questo ci porti ad avere una discussione seria una discussione franca e che porti tutto il personale a lavorare in sicurezza ecco nelle prossime edizioni del telegiornale torneremo su alcuni temi caldi diciamo così del dibattito cittadino parleremo anche però delle riduzioni sulla tariffa corrispettiva puntuale la tassa su rifiuti per intenderci sono delle novità importanti in città e poi parleremo anche delle riaperture e anche della proroga della mostra di Liga Bue quindi tutto questo nelle prossime edizioni del telegiornale torneremo a parlare ovviamente anche di sport e di SPAL a me invece non resta che ringraziarvi ricordarvi che ci sono anche telestense.it e i social per rimanere aggiornati su tutto quello che accade a Ferrara e provincia grazie ancora e buon sabato grazie a tutti